Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di maggio. Ho una grande pila quindi direi di iniziare subito. Il primo libro che ho letto questo mese è un libro che avevo iniziato a fine aprile che mi era stato mandato dalla Corbaccio Editore, ovvero Gli Eredi di Wolf Dorn. Questo libro in digitale viene 9,99€ mentre in cartaceo 17,60€ se non sbaglio ed è un thriller psicologico. Io di Wolf Dorn ho già letto La Psichiatra e mi era piaciuto tantissimo quindi ero molto curiosa di leggere questo nuovo libro dell'autore che in parte mi ha deluso. Robert Winter è uno psicologo che viene chiamato per una consulenza riguardante una paziente traumatizzata in seguito a un evento molto misterioso. Infatti sembrerebbe essere l'unica persona rimasta in vita di un paesino in montagna. Questa donna ha da raccontare una storia veramente assurda e infatti inizialmente non viene presa sul serio da nessuno e noi stessi che leggiamo il libro non riusciamo a capire dove si concluda la fantasia e incominci la realtà. Insomma, è una storia molto intrigante, per certi versi anche agghiacciante perché ha a che fare con dei fenomeni, non dico sovrannaturali, però l'autore parte comunque da problematiche attuali, da notizie che si leggono tutti i giorni sui quotidiani e questo libro rappresenta un po' quella che potrebbe essere una conseguenza a tutte le azioni, diciamo, cattive dell'uomo riguardanti la natura ma anche le altre persone. Il fatto che l'autore parta quindi da eventi realmente accaduti al giorno d'oggi mi è piaciuto veramente tanto, però ho trovato il libro un po' lento, non mi ha intrigato più di tanto e non succede secondo me granché, e mi aspettavo anche una conclusione magari un po' più avvincente, non lo so. Comunque riguardo a questo libro ho fatto un'intera recensione sul blog che vi lascerò linkata nelle schede qua sotto in descrizione. Altro libro che mi sono divorata subito dopo tempo di libri è Dovremmo essere tutti femministi di Cimaman Dangosi Adici, non so se l'ho pronunciato bene o meno, nel caso perdonatemi. Questo libricino è veramente minuscolo, saranno tipo 60 pagine ed è un libro edito da Einaudi al prezzo di 9€. È stata una lettura veramente molto interessante, non vedo l'ora di leggere qualche cos'altro di questa autrice perché mi ha incuriosito veramente tanto. In particolare c'è un libro suo che mi interessa particolarmente, mi sembra che si chiami Come crescere una figlia femminista o qualcosa del genere, nel caso poi lo scriverò qua sotto in descrizione. Ed è una lettura che secondo me si dovrebbero fare tutti, anche perché ci si mette veramente mezz'ora a leggerlo, e secondo me può far riflettere. Si tratta di un brevissimo saggio sul femminismo, più nello specifico è la trasposizione di un discorso che ha tenuto questa autrice a una conferenza dal medesimo titolo del libro. È stata una lettura molto breve, ma particolarmente intensa. Mi ha fatto riflettere tanto e penso che sia veramente molto interessante, quindi vi straconsiglio di leggerlo, io l'ho consigliato in famiglia veramente a chiunque. Ho terminato poi la lettura del fumetto La collina dei pesci rossi, leggendo il volume 4 e 5. Questo fumetto è delle Peach Pit, edito qua in Italia dalla Star Comics, al prezzo di 4,90€ a volume. È una serie appunto completa in 5 volumi e mi è piaciuta veramente tantissimo. L'unica cosa che magari non mi è piaciuta è il finale, il volume 5 è quello che mi è piaciuto di me in assoluto, perché ho trovato il finale molto affrettato, un po' buttato lì, insomma. Io avevo tanti dubbi e non sono stata molto soddisfatta di questo finale. In generale però è una serie che mi è piaciuta veramente tanto, a partire dai personaggi che ho trovato tenerissimi e abbastanza reali. Una storia particolare, basata sull'amicizia, sull'importanza dei ricordi, veramente molto molto bello. Io ve lo straconsiglio, magari vi lascerò nelle schede qua sotto in descrizione un video in cui ve ne parlo un po' più approfonditamente. Proseguendo, ho letto I sogni di Martino Sterio e di Giulio Xalt. Non so se si pronuncia in questo modo il cognome dell'autore, comunque, perdonatemi. È un ragazzo comunque italiano e questo libro è edito da Electa Mondadori a prezzo di 16,90 euro. Protagonista di questa storia è appunto Martino e i suoi sogni, che sono sogni molto particolari, sembrano per certi versi reali, anche in questo caso non si capisce quale è il confine fra sogno e realtà e c'è un fortissimo legame con Alice nel Paese delle Meraviglie. È stata una lettura molto avventurosa perché Martino cercherà di scoprire il legame fra i suoi sogni e appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, perché solo a lui capita di avere questi sogni molto bizzarri. Ci saranno poi tante teorie sui testi di Lewis Carroll, in particolare ci sarà una ragazza, Sophie, che gli metterà un po' la pulce nell'orecchio su varie teorie riguardanti appunto quest'autore, i suoi testi maledetti. Insomma, l'ho trovato molto originale per questo aspetto e anche i sogni che fa Martino sono veramente molto bizzarri. Nonostante la particolarità di questo libro, non mi ha convinta completamente. I personaggi infatti non mi sono piaciuti, in particolare il protagonista Martino l'ho trovato veramente esasperante nei suoi atteggiamenti, mi dava veramente il nervoso in certi punti e la storia procedeva abbastanza lentamente, non lo so. Fino alla metà circa del romanzo non succede granché, quello che succede dopo è abbastanza prevedibile, a parer mio, e anche la risoluzione del grande mistero non mi ha fatto impazzire più di tanto. È un libro molto originale, io ho letto diversi libri che si ispirano ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ma mai nulla del genere, insomma. Mi ha colpito particolarmente per questa originalità e per la fantasia che è l'autore, soprattutto quando si tratta di narrare i sogni di Martino, li ho trovati veramente molto fantastici. Quindi se vi piace Alice nel Paese delle Meraviglie, vi piacciono le storie un po' misteriose che hanno a che fare con i sogni, assolutamente consigliato. Comunque ho trovato una recensione molto più approfondita sul mio blog, di cui vi lascerò il link nelle schede qua sotto in descrizione. Finalmente ho letto Le cose così di Labadessa, è un fumetto che ho acquistato a Luca Comics o in prossimità di quell'evento, adesso non ricordo, comunque era tantissimo tempo che volevo leggerlo e finalmente questo mese mi sono decisa. Per chi non conoscesse Labadessa, è un autore che ha anche una pagina Facebook, poi vi lascerò il link in descrizione, che racconta praticamente degli episodi di vita quotidiana visti attraverso un uomo uccello disegnato in rosso con sfondo totalmente giallo. Cioè, la particolarità dei suoi disegni, delle sue vignette, è appunto questa. Questo fumetto è edito da Shockdom al prezzo di 15 euro ed è una raccolta delle sue strisce, diciamo, più celebri, più alcune disegnate appositamente per l'uscita di questo fumetto. Come vi dicevo, parte degli episodi di vita quotidiana, come potrebbe essere dover prendere i mezzi pubblici, uscire a bere la sera, non riuscire a dormire perché si ha ansia, insomma, veramente un po' di tutto. E in particolare, secondo me, ci sono tanti episodi in cui persone della mia età si potrebbero benissimo rivedere, ad esempio per via dell'ansia degli esami o semplicemente quell'angoscia che ti assale quando incominci ad avere 24-25 anni e non sai che cosa fare della tua vita. Tutto ciò viene raccontato in maniera un po' cinica, sarcastica, con un linguaggio abbastanza colorito ed è una cosa che non sempre mi piace. Cioè, ci sono magari degli episodi, delle vignette in cui ha senso utilizzare un certo linguaggio, in altre, secondo me, è un po' esagerato, ma riguarda soltanto un gusto mio personale. Se state cercando una lettura divertente che critica un po' la società d'oggi, assolutamente consigliato. Ci sono delle vignette che sono spettacolari, secondo me. Il mese scorso, se non sbaglio, vi avevo parlato del numero 20 dell'Attacco dei Giganti che mi aveva sorpreso tantissimo perché era da tanto che non provavo un'emozione così forte per un volume dell'Attacco dei Giganti. La storia finalmente si stava muovendo, stavano succedendo cose veramente pazzesche. Ecco, questo mese ho letto il numero 21 e sono scioccata perché stanno succedendo tantissime cose, però sono anche molto felice perché finalmente l'autore ci sta dando delle risposte. Delle risposte abbastanza traumatiche e destabilizzanti, però pazzesco. Veramente, io sono in estudio per questo fumetto, mi sta piacendo tantissimo in questi ultimi volumi. Penso che... oddio. Se avete intenzione di recuperare l'Attacco dei Giganti è edito dalla Planet Manga a prezzo di 4,50€. È un manga che io vi straconsiglio di leggere, ci sono un po' di alti e bassi durante la storia e al momento sono usciti appunto 21 volumi, ma vi consiglio anche di guardarvi l'anime perché ci sono delle scene d'azione, in particolare i Giganti in Movimento che secondo me rendono molto di più nell'anime rispetto che nel manga. Per chi mi segue sulla pagina Facebook la prossima lettura non sarà una sorpresa perché ve ne ho parlato tantissimo lì, ovvero niente, che tutte le volte che dico ho letto niente mi fa stranissimo perché sembra che io non abbia letto niente quando io in realtà ho letto il romanzo che si intitola Niente di Jan Teller. Questo libro mi è stato regalato per il mio compleanno dalla mia amica Vanessa, quindi non so il prezzo, però lo troverete in descrizione appunto linkato ad Amazon ed è edito dalla Feltrinelli. Ero curiosissima di leggere questo libro perché l'autrice sarà presente a mare di libri, anche in questo caso troverete tutti i dettagli in descrizione, ed è stata una lettura un po' agghiacciante, cioè all'inizio la storia parte in maniera veramente molto semplice con questo ragazzo di 13 anni se non sbaglio che da un giorno all'altro decide che niente ha più senso nella vita e quindi abbandona gli amici, la scuola e tutto e si arrampica su un susino e dall'albero praticamente dice ai suoi amici che non ha senso fare questo perché tanto nulla ha senso e così via. E i suoi amici per farlo ricredere decidono di mettere assieme degli oggetti che per loro hanno molto significato creando quindi una catasta del significato. Questi oggetti però non vengono decisi dai ragazzi che li possiedono ma un ragazzo sceglie per un altro ragazzo e così via a catene. Quindi si inizia a creare un rapporto veramente molto vendicativo fra questi ragazzini perché vengono privati di qualcosa a cui tengono particolarmente e quindi poi si vendicano sul ragazzo successivo chiedendo sempre ma sempre di più. Si parte da banalmente un pallone, dei guanti da box, delle scarpe per passare ai capelli, all'animale domestico e le cose veramente degenerano. È un romanzo molto forte, crudo, immorale. Sulla pagina lo avevo definito un romanzo di deformazione proprio per il modo in cui questi ragazzi agiscono. Questi ragazzi sono talmente focalizzati sulla ricerca del significato o meglio pensano di sapere che cosa sia realmente significativo per la loro vita che a un certo punto perdono totalmente questo obiettivo il senso di quello che stanno facendo cadendo in questo circolo vizioso, vendicativo. È una storia che quindi mi ha colpito veramente tanto perché non mi aspettavo tutta questa crudezza in questa storia e anche perché parte, come vi dicevo, in maniera abbastanza lineare e semplice per poi degenerare sempre ma sempre di più. Se penso poi che questo romanzo è rivolto principalmente agli adolescenti rimango ancora più stupita per i toni che vengono utilizzati. Dopo aver letto questo romanzo sono curiosissima di incontrare l'autrice. Veramente non vedo l'ora di saperne un po' di più e se ne avrò occasione sicuramente mi leggerò qualche cos'altro di suo. Passando a un genere completamente diverso in un angolo di cielo notturno di Nojiko Ayakawa uno yaoi meraviglioso, stupendo mi ha emozionata tantissimo mi ha colpito particolarmente i disegni sono qualcosa di meraviglioso adesso vi faccio vedere qualche tavola a me piace tantissimo il tratto di questa autrice in certe occasioni può sembrare un po' confusionario perché le linee magari non hanno fine soprattutto nelle tavole in cui ci sono tante cose ma io lo trovo semplicemente meraviglioso cioè io non lo so, non ho parole a me piace tantissimo questo tratto. La storia parla di un insegnante degli elementari abbastanza timido che dopo 11 anni incontra un suo vecchio senpai nel cortile della scuola dove insegna e scopre che è il padre di uno dei suoi alunni. È una storia molto tenera e sentimentale che a me è piaciuta veramente tanto anche perché fa molto riferimento al cielo, alle stelle infatti questi due ragazzi adesso diventati uomini facevano parte del club di astronomia quindi ci sono tanti riferimenti in questo senso. Il fatto che poi siano coinvolti dei bambini in particolare il figlio di uno dei due protagonisti rende la storia secondo me ancora più divertente perché vedere gli adulti attraverso gli occhi di un bambino per me è veramente molto buffo. Si hanno visioni completamente diverse crescendo ci facciamo veramente tanti problemi mentre i bambini spesso sono senza filtri. Se vi piace questo genere di manga dovete assolutamente leggerlo a me ha colpito veramente tanto e anzi se lo avete letto e vi è piaciuto tanto quanto me fatemi sapere nei commenti che cosa mi consigliereste di leggere perché sono alla ricerca di qualcosa non uguale ma diciamo simile. Per chi fosse interessato la storia si conclude in questo volume edito dalla Flashbook al prezzo di 7,50€ e trovate anche una recensione sul blog nelle schede qua state in descrizione. Grazie a Fazzi Editore ho avuto l'opportunità di leggere in anteprima Absence Il gioco dei quattro di Chiara Panzuti autrice che ho incontrato al Salone del Libro a Torino e che ho intervistato poi vi linkerò l'intervista che vi straconsiglio di guardare perché è stata un'esperienza per me veramente magica non avevo mai intervistato un autore prima e Chiara in particolare è una ragazza simpaticissima veramente molto tenera quindi vi consiglio di guardare anche quel video. Il suo romanzo è uscito il primo di giugno nella collana Lenya, appunto, di Fazzi Editore al prezzo di 15€ Questa storia mi ha colpita veramente tanto perché spesso le storie un po' fantastiche un po' surreali non dico che siano superficiali però spesso non trattano delle tematiche così attuali come nel caso di questo romanzo. La protagonista, Faith, un giorno diventa invisibile all'improvviso sua madre, oltre a non vederla più non ha neanche il ricordo non si ricorda di avere una figlia e questa cosa succede anche ad altri ragazzi partecipi di uno strano gioco di una persona che non conoscono che li ha resi, appunto, invisibili e per tornare a vedere dovranno compiere, diciamo, un viaggio è una storia che parla molto di identità un tema molto caro all'autrice soprattutto giorno d'oggi in cui internet, i social ci fanno perdere un po' la bussola ed è difficile capire chi si è realmente è un tema fondamentale in questo libro che mi ha fatto riflettere veramente tanto ed è stata una bella sorpresa rivedere un tema così attuale in una storia, appunto, inventata ho trovato poi molto particolare il fatto che l'autrice utilizzasse l'invisibilità come qualcosa di negativo l'invisibilità fisica perché spesso nei film, nei fumetti è un superpotere, qualche cosa che tutti vorrebbero, no? il potere di diventare invisibili in questo caso non sono i personaggi a decidere di diventare invisibili fisicamente e quindi è proprio vissuto come un handicap con tutte le dovute conseguenze e in generale si parla anche di quella che è l'invisibilità quando non si è invisibili fisicamente scusate il gioco di parole anche stando in un posto strapieno di gente c'è il rischio di passare inosservati o meglio di essere veramente invisibili agli occhi degli altri ed è una cosa che succede sempre più spesso quindi mi è piaciuto questo duplice aspetto dell'invisibilità che ha inserito l'autrice nel libro questo è il primo romanzo di una trilogia quindi la storia non si conclude in questo primo volume ci sono tantissimi punti di domanda ancora aperti e non vedo l'ora di leggere il seguito per poter scoprire qualcosa di più un fumetto bellissimo che ho letto recentemente è Un anno senza te di Luca Manzella e Giopota edito per Bao Publishing al prezzo di 20 euro di cui ho fatto un'intera recensione per il book, blog e vlog tour organizzato da Bao che ormai si è concluso mi dispiace però la recensione la trovate ancora quindi poi ve la linkerò è un fumetto meraviglioso che parla della fine di un amore Antonio infatti ci mette un anno per riprendersi dalla rottura con il fidanzato Tancredi ed è un fumetto ambientato in una Bologna un po' surreale con degli elementi magici a partire dai coniglietti di neve che io ho adorato immensamente che parla appunto della fine di un amore di come riprendersi in un certo senso da un'esperienza difficile per certi versi magari traumatica ma più in generale come ritrovare se stessi avere il coraggio di capire chi si è e andare avanti per la propria strada un fumetto che secondo me dà tantissima speranza ha un messaggio veramente molto molto bello i disegni mi sono piaciuti veramente tanto in particolare mi piace il modo in cui vengono disegnati i personaggi con queste linee molto morbide che ricordano un po' i cartoni animati e in particolare anche la città come viene rappresentata mi è piaciuto veramente tanto perché appunto ha un tocco un po' un po' surreale e poi mi è piaciuto molto come viene rappresentata Bologna perché appunto è una città che conosco e che ho riconosciuto ma allo stesso tempo una città nuova inesplorata appunto per l'aggiunta di elementi un po' fantastici inutile dire che vi straconsiglio la lettura di questo fumetto ho letto poi La ragazza dei lupi di Catherine Randall un libro edito da Rizzoli al prezzo di 15 euro e anche in questo caso l'autrice sarà presente a mare di libri ero quindi molto curiosa di leggere qualcosa di suo e in particolare avevo sentito parlare molto bene di questo romanzo quindi mi sono fiondata alla lettura anche perché parla principalmente di lupi degli animali che a me piacciono particolarmente la storia parla di Feo e di sua madre che sono dei soffialupi ovvero delle persone che accolgono i lupi abituati a stare in casa al servizio delle persone e li riabituano alla vita selvaggia questa pratica però non è vista di buon occhio da tutti e infatti la madre di Feo viene incarcerata la ragazza cercherà quindi di andare a salvare la madre è un romanzo che parla molto del rapporto con la natura nei suoi aspetti diciamo più selvaggi a partire appunto dai soffialupi delle persone che al contrario dei domatori rieducano possiamo dire così i lupi ad essere tali a vivere nella natura nelle foreste a cacciare è un aspetto che mi ha colpito veramente tanto in particolare il rapporto che ha Feo con i lupi che mi ha ricordato per diversi aspetti il rapporto che io ho con i gatti in chiave diversa però ecco se qualcuno ha comunque un animale a cui vuole particolarmente bene secondo me si potrà rivedere tantissimo in questa storia si tratta poi di una storia illustrata ci sono infatti alcuni disegni secondo me veramente bellissimi in bianco e nero che rappresentano un po' quello che sta accadendo nel romanzo ma ci sono anche dei disegnetti ogni tanto sulle pagine alberi foglie zampe di lupi l'ho trovato veramente molto carino ed ha un'aria molto da fiaba alla storia e secondo me è meglio prenderla come una fiaba in una storia diciamo realistica perché ci sono tanti punti che non vengono approfonditi bene tante risoluzioni molto infantili tante cose molto irreali che mi hanno fatto storcere un po' il naso però ecco se la si prende come una storia un po' più fiaba un po' più romanzata è veramente molto carina feo è una ragazza molto determinata decise forte che sa trattare meglio con i lupi che con le persone ed è una cosa che ho trovato molto buffa quando poi si rapporta ai suoi coetanei o a persone più grandi che in realtà sono quasi assenti in questo romanzo una cosa che non mi è piaciuta granché a parte la madre di feo e l'antagonista della storia ci sono veramente pochissime persone adulte che vengono appena citate sarei ambientata in Russia un paese che a me personalmente non piace tanto però i paesaggi sono sempre innevati la maggior parte delle volte feo e i lupi sono nella foresta non lo so quest'aria di natura un po' incontaminata mi è piaciuta veramente tanto in ogni caso è stata una lettura veramente molto piacevole non vedo l'ora di sentir parlare l'autrice riguardo questo romanzo perché sono curiosa di scoprire come è nata l'idea perché è una storia per certi versi originale o almeno io non ho mai letto nulla del genere e mi ha incuriosito veramente tanto l'ultimo romanzo che ho letto questo mese è stato Bunker Diary di Kevin Brooks altro autore che sarà presente a mare di libri infatti ho voluto leggere questo libro perché mi incuriosiva già da tempo e in occasione del festival volevo arrivare preparata io ho letto questo libro in digitale in inglese il livello è diciamo intermedio perché è un romanzo per ragazzi però con delle parole abbastanza ricercate è uscita da poco per la Pickwick un'edizione economica di questo romanzo in italiano che trovate mi sembra a 9,90 euro la storia parla di un ragazzo di 16 anni che viene rapito e portato in un bunker in questo spazio veramente asettico in cui ci sono 6 stanze 6 piatti 6 bicchieri 6 set di posate però lui è da solo è una storia veramente terribile io sono arrivata alla fine della lettura con un po' di rabbia e un po' di ma che cosa ho appena letto perché è una storia veramente triste cinica senza speranza senza via di fuga né per il personaggio del libro che per chi legge una storia che ricalca in più di un'occasione quanto le persone sanno essere disumane di quanta follia ci possa essere nella mente umana di quante cattiverie esistono senza un motivo è una storia veramente cruda e abbastanza intensa soprattutto verso la fine secondo me ci sono delle cose abbastanza agghiaccianti che magari possono toccare particolarmente chi è sensibile è una storia per ragazzi che mi ha colpito tanto a partire dai toni che vengono utilizzati non si cerca mai nessun modo di alleviare di filtrare quello che succede per un pubblico giovane ma viene raccontato tutto in maniera cruda violenta spesso e volentieri e i toni sono veramente aspri cinici per questo non posso dire che è un libro che mi è piaciuto perché la storia non mi è piaciuta per niente una situazione in cui nessuno vorrebbe ritrovarsi uno dei peggiori incubi secondo me è un libro che non mi ha dato alcuna soddisfazione perché non succede nulla di quello che vorrei ma soprattutto avevo tantissime domande a cui non viene data nessuna risposta ed è una cosa che mi ha fatto tantissima rabbia perché magari ai fini della storia ai fini di quello che vuole comunicare l'autore possono risultare non essenziali queste cose che io invece ho ricercato però sinceramente sono rimasta insoddisfatta da questa lettura da questo punto di vista sono molto curiosa di incontrare l'autore e spero che mi dia alcune delle risposte che cerco che ho cercato durante la lettura di questo romanzo perché sono veramente distrutta e non so che cosa pensare mi ha scombustolata veramente tanto questa lettura veramente molto molto forte triste angosciante ultimissima lettura di questo mese il primo volume di The Ancient Magus Bride di Core Yamazaki fumetto edito per la Star Comics al prezzo di 5,90 euro non ricordo esattamente quanti volumi siano usciti per ora comunque una serie ancora in corso ed è un manga che mi è piaciuto tantissimo quindi presto recupererò anche i seguiti la storia parla di una ragazza che ha perso la famiglia quindi è orfana non ha un'eredità non ha aspirazioni nella vita non sa che cosa fare di se stessa e quindi decide diciamo di vendersi viene venduta all'asta a un mago e questo mago vorrà fare di lei la sua discepola e sposa quindi questa ragazza entra a far parte di un mondo totalmente magico in cui ci sono tantissime creature non soltanto i maghi che in realtà è una specie ormai in via di estinzione a me piacciono tantissimo le storie appunto fantastiche e un po' magiche quindi ho apprezzato tantissimo questo aspetto del manga e sono molto curiosa di approfondire meglio i personaggi in particolare il mago Elias mi incuriosisce non poco che vedete ha un aspetto un po' macabro questi erano quindi tutti i libri e fumetti che ho letto nel mese di maggio fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate se avete letto anche voi uno dei libri o fumetti che ho citato in descrizione troverete poi tutta la lista completa nel caso foste curiosi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao